Buonasera a tutti, noi ci chiamiamo Psycho Fellowship, vuol dire più o meno la compagnia dei folli. Veniamo un po' da Reggio Calabria, tanto ci conoscete tutti, e qualcuno no, viene dal nord. E niente, siamo qui a cantare il gesto della rivoluzione e iniziamo un pezzo che è dedicato agli scotti di Gezi Park a Istanbul. Sono le parole di Abdullah Komert perché noi abbiamo provato a non musicare, tutto questo è il riuscito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.